La principale avversaria del riconfermato presidente bielorusso Alexander Lukashenko non crede ai risultati dello spoglio elettorale. Svitiana Tikanuskaya sostiene di avere informazioni totalmente opposte a quelle ufficiali e ai risultati dichiarati del ballottaggio di domenica che ha visto il presidente in carica conquistare l'80% dei voti. Le autorità dovrebbero pensare a come consegnarci pacificamente il potere. Finora hanno risposto solo con la violenza contro pacifici cittadini bielorussi. La polizia sta intervenendo in tutto il paese. Nella capitale Minsk le forze di sicurezza hanno sparato pallottole di gomma lanciato da crimogeni, usato idranti contro i manifestanti. La ONG Viasna ha riferito che è un manifestante morto travolto da un mezzo della polizia. Il ministero dell'interno ha smentito e parla invece di 50 civili e 39 agenti rimasti feriti negli scontri. Qualcuno sta cercando di fomentare le tensioni, ha dichiarato Lukashenko. Ho avvertito che qui non ci saranno rivoluzioni in stile Maidan. Non importa quanto le si voglia, pertanto dovreste calmarvi. La risposta sarà adeguata. Non lasceremo che il paese venga distrutto. I dimostranti sono convinti che le elezioni siano state truccate e non intendono smettere di manifestare in piazza.